www.pizza.incolombia.it Te la posso tagliare quasi al 50. Ti dico per carità, la pizza in Colombia mai. Ma questa mi si mette di traverso. Che ti devo dire? Allora paghiamo questa pizza. Ma la servita? Che ricco! Questa è la comida favorita di Julio, da quando ero piccolo. In Colombia è differente questo tipo di arepa. Fammi fare corriere. Sto bene così. Sto bene così? Sì, stai bene così. Ma questi. Signora, da dove arriva lei? Sono colombiana. Deve venire in centrale con noi. Se è semplice controllo, fate il suo controllo e basta. Questo passaporto è stato contrafatto. Magdalena dal van, se chiamo. Sono il figlio cazzo, lo saprò. A me basta che lo dice a voi. Che devi fare con quello, no? Hablar con Lucho hice para Colombia. Pa' dónde crees que te vas a ir, pedazo di hijueputa? No. No, 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 no... amandone